Ben trovati a Sport News, grande successo per l'iniziativa della Federazione Italiana Tennis andata in scena a Recanati che consentiva a giocatori di quarta categoria di ottenere Wild Card per la fase regionale di prequalificazione BNL Roma 2023. 104 i tennisti iscritti ripartiti nei tabelloni di singolare doppio sia maschile che femminile. Il torneo ha fatto registrare un buon livello di gioco. Giovanni Bravi ha vinto il singolare maschile battendo in finale Alessandro Lorenzini. Nella finale terzo quarto posto la spuntata Filippo Mobili su Alvaro Pagan. La porta colori della team acerata Alessandra Izzo si è giudicata il tabellone femminile sconvengendo in finale Alessandra Mosciatti. Equilibrio nella finale del doppio dove la coppia Castagna-Maceratini ha prevalso su Provaroni-Capodaglio. L'associazione sportiva i fit di macerata organizza domani 8 marzo allo stadio Elvia Recina la manifestazione La partita delle donne a sostegno delle pari opportunità e dell'inclusione sociale giovanile. Il programma prevede giochi e partiti amichevoli destinati a bambine dalle 6 ai 14 anni ed è sostenuta dal CONI e dalla FIGICI marcerata. Con l'avvicinarsi appunto ormai imminente della festa della donna anche il comune di Camerino ha voluto dedicare un'intera giornata al calcio in rosa maggiori dettagli nel servizio di Mario Sposetti. Non è stata solo una festa al femminile quella andata e scena domenica 5 marzo a Camerino una giornata che ha accesso i riflettori e la sensibilizzazione su un argomento talmente dedicato come la discriminazione di genere con l'iniziativa dal titolo La violenza sulle donne. I temi principali sono stati affrontati in un convegno in mattinata dal titolo Il caso delle calciatrici evoluzione del calcio femminile in genere dagli anni 80 ai nostri tempi discriminazione razzismo e sessismo che si è svolto nella sede del comune Camerte. Nel poveriggio invece lo stadio comunale ha fatto da cornice alla finale di Coppa Marche d'Eccellenza che ha visto prevalere la Vispesaro ai rigori contro la IFIT Macerata. Diverse le personalità che hanno partecipato al dibattito tra cui il presidente del comitato regionale Marche della Federazione Italiana Gioco Calcio Ivo Panichi e la presidente della società Ancona Respet, Silvana Pazzagli. Lo sport innanzitutto per noi è uno strumento, è uno strumento di aggregazione, di socialità, di incontro ma anche di rivalsa soprattutto per tanti ragazzi e ragazze che per esempio non possono permettersi di accedervi magari soltanto per una barriera economica o perché comunque vivono situazioni di fragilità sociale. Ancona Respet è questo, c'è una società che lavora impegnata nel calcio femminile e che cerca di portare avanti sia l'aspetto tecnico quindi per esempio ecco i nostri tecnici sono tutti tecnici col patentino, formati quindi alleniamo ma appunto alleniamo a 360 gradi la persona in questo caso la bambina o la ragazza che con noi deve fare un percorso, un percorso di crescita che non è solo un percorso tecnico ma effettivamente anche un percorso esistenziale importante. Il calcio femminile negli ultimi anni ha avuto un'importanza sempre maggiore, sta occupando anche a livello di media sempre più spazio? Sì, diciamo che i recenti mondiali femminili hanno rimesso un po' alla ribalta questo movimento che comunque oggi necessita di essere ancora di più implementato, incoraggiato, sostenuto non solo dalle società che praticano calcio maschile ma penso anche alle istituzioni stesse, alle federazioni. Sicuramente c'è molto da fare perché comunque ancora viviamo un po' all'appannaggio del calcio maschile. Quello che desideriamo è che diventi effettivamente a livello anche diciamo economico ma anche a livello proprio di riconoscimento culturale alla pari del calcio maschile perché anche questo nel 2023 vuol dire comunque eliminare le barriere che ovviamente si pongono quando parliamo di discriminazione di genere. Presidente, il calcio femminile sta avendo sempre più importanza. Quest'oggi è un convegno importante dove praticamente si parla del calce rosa. Sì, per fortuna direi. Questo è un progetto che da qualche anno ormai è stato rinvigorito diciamo a partire dalla federazione, dalla lega nazionale di dettanti e quindi anche noi del comitato regionale. Noi alcuni anni fa addirittura abbiamo avuto la soddisfazione di vincere il torneo delle regioni di calcio femminile quindi eravamo a livelli alti. Poi per una serie di motivi il movimento si è un po' ridotto, ridimensionato. Adesso stiamo cercando di rivitalizzarlo. Penso di esserci riusciti, ci siamo riusciti abbastanza ma la soddisfazione principale è che abbiamo una crescita enorme del settore giovanile femminile sia nell'ambito del calcio 5 che nell'ambito del calcio 11 anche se fino a una certa età non esiste il calcio 5 e il calcio 11. Insomma l'importante è che coinvolgiamo queste ragazzine e vedo tanta tanta passione, tanta crescita e questo mi dà una grande speranza in prospettiva. Ci occupiamo ora di bocce. Vittoria per Gabriele Marinelli, campione giovanile della bocciofila Castelfidardo che a Pomezia ha vinto il Gran Premio Enea. Il ragazzo marchigiano si è tolto il lusso di battere l'ex campione del mondo Gianluca Formicone in semifinale e un altro big come Gaetano Miloro in finale. Grande partecipazione poi alla bocciofila Pollentina per il trofeo Gian Felici Termoidraulica, gara nazionale per coppie di tutte le categorie. A vincere una coppia top è quella in forza la bocciofila Morrovalle, composta da Marco Principi e Dante d'Alessandro. In finale hanno avuto la meglio su Emiliano Pietrella e Franco Carnevali della Montefanese. Al terzo posto invece Francesco Lisotta e Davide Palazzini di Lucrezia. Quarto posto per Marco Pascucci e Nazareno Vitali di Tolentino. Si è completata la prima di due settimane di gara alla bocciofila Città di Recanati per l'ottava edizione del trofeo Cittadino. Il successo è andato alla coppia Matteo Salvucci, Giuseppe Governatori della Maceratese, che in finale hanno avuto la meglio su Aldo Capomaggi e Dario Palorossi della Chiara Vallese. Al terzo posto si è piazzata la coppia Gianluca Mancinelli e Maurizio Micozzi delle Morrovalle. Quarti Enrico Germani e Giacomo Santarelli di Monte Urano. Ancora una sconfitta per la cofer metal Marche Castelfidardo nel campionato di Serie A. Si ritrovano ora da soli in fondo alla classifica con soli tre punti. In Serie A due erano in programma due derby vinti dall'Oikos Fossombrone sulla Civitanovese e dalla Sangiustese sul Fontespina. L'altra marchigiana del Girone, il Montesanto, è uscita con un pareggio dalla trasferta di Verona contro la Jolly. In classifica la prima delle marchigiane è la Sangiustese, che è terza, mentre la Civitanovese è in fondo alla graduatoria. In Serie B continua a guidare la classifica del Girone marchigiano-abruzzese il Serra dei Conti, che ha vinto in trasferta sul campo della San Benedettese. Vittorie anche per la San Cristofo Rofano nel derby della Valmetauro su Lucrezia e per il Colbordolo sul Roseto. Pareggio infine per il Morrovalle in casa contro gli abruzzesi. E con quest'ultima notizia sportiva termina questa edizione odierna del 3G. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.